roma capitale incendio in via di monte carnevale sull'incendio in roma capitale incendio di vaste dimensioni in via di monte carnevale cause e conseguenze roma la città eterna si trova nuovamente di fronte a un grave incidente oggi giovedì si è verificato un devastante incendio in via di monte carnevale che ha messo in allerta numerosi residenti e squadre di emergenza secondo quanto riportato il fuoco è scoppiato in circunstancia ancora poco chiare in torno a mezzogiorno die polizzei und zuständige behörden führten erste ermittlungen zur brandursache durch es wurde vermutet dass eine unsachgemäße handhabung mit feuer oder elektrik eine rolle gespielt haben könnte lokale medien berichteten dass die zufahrtsstraßen zur via di monte carnevale während des gesamten nachmittag gesperrt waren um den einsatzkräften den nötigen raum zu geben zudem wurde eine notfallnummer eingerichtet um besorgte bürger zu informieren und zu unterstützen die auswirkungen des brandes sind enorm la polizia e le autorità competenti hanno avviato le prime indagini sulla causa dell'incendio si sospetta che una manipolazione impropria del fuoco o dell'elettricità possa aver avuto un ruolo i media locali hanno riportato che le strade di accesso a via di monte carnevale sono rimaste chiuse per tutto il pomeriggio per dare spazio alle squadre di intervento inoltre è stato attivato un numero di emergenza per informare e supportare i cittadini preoccupati le conseguenze dell'incendio sono enormi è fondamentale che l'amministrazione reagisca rapidamente non solo per riparare i danni ma anche per sviluppare strategie di prevenzione mentre la situazione si calma gradualmente persistono interrogativi sulla sicurezza e sui piani di emergenza appropriati nelle aree urbane l'amministrazione comunale di roma capitale si trova ora di fronte alla sfida di riconquistare la fiducia dei cittadini e prendersi cura dei residenti colpiti le ultime ore hanno ancora una volta evidenziato quanto sia importante essere ben preparati per le emergenze abschließend bleibt zu hoffen dass die untersuchungen schnell zu ergebnissen führen und ähnliche vorfälle in der zukunft verhindert werden können es liegt nun an den verantwortlichen geeignete maßnahmen zu ergreifen und dafür zu sorgen dass die bürger in rom sicher leben können auto anita facke donnerstag 29 august 24 in conclusione si spera che le indagini possano portare rapidamente a risultati e che simili incidenti possano essere prevenuti in futuro ora aspetta i responsabili adottare misure adeguate e garantire che i cittadini di roma possano vivere in sicurezza autore anita facke giovedì 29 agosto 24